Oggi discutiamo quella che è una mia operazione in atto, ovvero un'operazione long, questa volta sull'indice tedesco DAX che da qualche giorno ormai che è in macchina, un'operazione praticamente in questo momento in corso con un mercato laterale. Ben ritrovato in questo nuovo episodio di Professione Trader, io sono Damiano Zito, Price Action Trader indipendente e membro della community di Airforex. Questa è la rubrica dove settimanalmente, ogni giovedì, il video andrà a raccontare quello che è la mia esperienza, quindi il mio diario di bordo di trading con un conto reale da 10.000 euro che ho aperto come fase esperienziale per il percorso di Accademia intrapreso sempre all'interno di Airforex. Bene, questa è la posizione che ho aperto sul DAX, un'operazione long, sono praticamente a mercato dal 7 febbraio, lo possiamo vedere dal diario di trading, lo vado subito a prendere, eccolo qui. Il diario di trading che per il mese di febbraio, quindi in questo momento mostra una seconda posizione, questa volta un buy, quindi un long sul DAX, che ho acquistato a un prezzo di 16.985. Operazione molto simile tra l'altro a quella condivisa in trading room da Arduino nel servizio didattico del Platinum, probabilmente differisce un po' per lo stop, insomma massimo investimento forse un po' più ampio in termini o più stretto di livello, ma fondamentalmente abbiamo questa operazione abbastanza simile. L'operazione è entrata il 7 febbraio, anch'io sono entrato con un buy limit, in questo caso 16.985. È chiaramente in corso e il mercato fondamentalmente è laterale e quindi non ha ancora dato direzionalità né long né short, nel senso che non ha creato effettivamente movimenti importanti. Quindi se andiamo a vedere in effetti io ho effettuato questo ingresso appunto il 7 febbraio dopo una dinamica di conferma che era la, esatto, questa, la giornata del 6 febbraio sia stata confermativa di quella che era invece poi il giovedì, primo febbraio, quindi un FTV primo febbraio. Però questo tipo di ingresso chiaramente viene da quella che è tutta una contestualizzazione del mercato, quindi da un'analisi settimanale. È vero che siamo su dei massimi storici, massimi mai visti, ma venivamo praticamente da questo swing, inside fake out, su una struttura long. Se hai seguito il video precedente ti ricorderai che io avevo shortato il mercato e proprio su questo minimo invece ha rimbalzato e ha creato poi gli swing che poi hanno portato il mercato al rialzo sopra i 16.800 punti che era il livello oltre il quale il mercato praticamente non riusciva più a sostare, cioè a chiudere e consolidare sopra, quindi a mostrare effettivamente tenuta e forza. Quindi cosa succede? Che il 22 gennaio, se andiamo a vedere, il mercato dopo aver convalidato questo swing settimanale, quindi ovvero questa candela, chiude forte e lo fa con questa candela che ha una chiusura a 16.930 punti. Chiusura che sto monitorando, tracciato anche come livello visibile nel daily perché secondo me è importante. Che cosa è successo? Il mercato qui ha creato un indecision per, anzi due indecision per due settimane consecutive, la settimana successiva è rimasta pressoché nei dintorni di 19.030, successivamente è andato il prezzo a chiudere sopra, a creare uno spike, comunque sopra a creare nuovi massimi assoluti. Ecco cosa quindi ci ritroviamo al momento, ci ritroviamo un mercato che è fondamentalmente laterale, non era questa la mia idea, nel senso che la mia idea era che ormai dopo questa giornata, quindi la sua conferma il mercato dovesse spingere, quindi effettivamente non è una posizione che adesso mi sta dando grande soddisfazione da questo punto di vista e potrei anche decidere dopo 1, 2, 3, 4, insomma 4 sessioni potrei anche decidere di tagliare via il trade e se parte pazienza. Più che altro sia per darmi, non tanto per darmi effettivamente anche un limite temporale, però abbiamo visto che gli interessi overnight su questo trade non sono proprio il massimo, nel senso che sono negativi, sto andando a pagare al momento, andiamo a vedere negli ultimi giorni, eccolo qui, questo è il trade sulla Germania, quindi date di apertura, sì 7 febbraio, questa operazione è da 0,55 contratti, aperta a 16.985, in questo momento è un'operazione che ha, chiaramente questo è un P&L non realizzato, però mi è costato fino ad ora 10,81 di interessi overnight, quindi un po' pesante. Questa diciamo è la situazione sul DAX, operazione che insomma al momento appunto non ha dato frutti, almeno dal punto di vista temporale, ecco, potrebbe però darla. Quindi è un'operazione che viene appunto contestualizzata all'interno di un weekly che mostrava questo settimanale e per quanto riguarda poi i posizionamenti del target, sono andato a vedere un po' quello che era appunto l'ultimo swing weekly e quindi a tracciare le estensioni 0,100 su questo swing, quindi preso, ho fatto questo 0,100, sono andato a vedere le sue estensioni e c'è sicuramente qui diciamo il suo 161,8 ancora neanche sfiorato, il prezzo al momento sta sopra il 130,90 che confluisce con il 16930, è chiaro che da qui lui possa anche fare questo prima di un ulteriore allungo, chiaramente, siamo comunque su un time frame settimanale e cosa, insomma, cosa stavo vedendo? Ecco, avevo segnato un po' questa, quest'area, mi piaceva quest'area qui e quest'area qui come area ultima dove eventualmente arrivare ad accompagnare un trade che si muove se si muove al rialzo, qualora se fosse mossa al rialzo avrei comunque già gestito qualcosa. Al momento quindi, diciamo, le aree le ho segnate in questo modo, andando poi a vedere le confluenze con questo trigger, quindi il trigger che è un FTV Power del giovedì, giovedì primo febbraio, che ha una confluenza più o meno in zona 17300 con il suo T4 e poi abbiamo il 17400 dove confluisce il trigger anche settimanale. Lo ritraccio, così insomma magari diventa un pochino più chiaro, quindi questo è il trigger settimanale, lo coloro magari in questo modo, lo mettiamo in blu, un blu elettrico molto appariscente, quindi andiamo a vedere, ecco le confluenze, no, la confluenza migliore era questa, il T4, mi piaceva molto questo 17300, tra il T4 settimanale con, quindi il 211,80 settimanale con il 211,80 del, di questo trigger che si era venuto a creare il primo febbraio. Vedremo, vedremo chiaramente queste sono zone non esplorate, non ci sono riferimenti nel passato, stiamo parlando di massimi storici, però non è detto che questo sia, come dire, un trade che manterrò nelle prossime giornate, soprattutto se ad esempio oggi mi va a chiudere anche pesante sotto i 16930. Al momento, insomma, la tenuta di questo livello è quella che mi sta facendo rimanere a mercato, cioè una, siamo sempre, ricordo, sopra questa chiusura, la chiusura settimanale del 22 gennaio, che è stata, diciamo, una buona chiusura e poi è stata confermata nella prima settimana di febbraio. Detto questo, insomma, questa è l'operazione di trading, la seconda operazione di febbraio, oggi è il 13, siamo a metà mese quasi, gennaio abbiamo visto, è stato un mese, un mese per quanto mi riguarda, negativo, però a prescindere da questo, insomma, sono, come dire, quello che voglio, insomma, dire a me stesso, ma anche a te che segui questo video, non sempre i risultati operativi rispecchiano quella che è poi anche un'eventuale crescita come trader, sicuramente ogni singolo trade, anche quelle andate a costo diventano poi una lezione, se c'è una crescita interiore non è il profitto che sta mostrando effettivamente la tua crescita. Magari tu sei cresciuto interiormente come trader, sono cresciute le tue esperienze sul campo, ma in questo momento i risultati operativi non raccontano questa storia, questa verità. Comunque, il prossimo, diciamo, il prossimo trade sul quale mi vorrei concentrare è al momento o l'euro-dollaro o quindi sempre il dollare americano, USDN. USDN che in realtà era, diciamo, nel mio mirino, aveva un buy limit che non è stato colpito, a 147,50 circa, lui ha fatto un minimo a, dunque, vediamo un po', a 147,62, poi il mercato è andato. Non sono entrato successivamente perché in realtà mi aspettavo dopo questa volatilità un ritracciamento ulteriore, un po' più ampio, potrebbe arrivare dopo e quindi, insomma, sono rimasto un pochino a guardare. Se andiamo a vedere questo trigger, è un trigger che sta facendo il suo, adesso questo è un FTV Power, è sempre una strategia di Artforex. Adesso stiamo praticamente sostando, insomma, stiamo sbattendo su questo livello dei 130,90, però c'è il 150 o poco più in alto che è una zona dove il prezzo potrebbe effettivamente arrivare e magari creare uno swing un pochino più sano, quindi potrei anche pensare successivamente di fare un acquisto se il mercato va qui, poi mi fa una cosa del genere, potrei anche pensare di riacquistare solo in un secondo momento su un eventuale nuovo trigger che mi va a ritestare questa zona di 148,80. quindi rimango un po' in osservazione. L'altro mercato che ho nel merino è l'euro-dollaro, l'euro-dollaro che effettivamente il mercato che avevo tradato è short, poi non sono rientrato perché aspettavo un ritracciamento, quindi un'ulteriore conferma potrebbe essere arrivata ieri, questo è lunedì 12 febbraio. Non ho ancora inserito l'ordine perché in questo caso, diciamo, vorrei lavorare in self-stop, ma siamo vicini a questi minimi, minimi decisamente importanti, quindi che cosa potrebbe succedere? Potrebbe succedere che magari io entro, lui arriva nuovamente su queste zone, dell'10720, 10730, anche 107, ok? E magari, quindi una volta entrato, lui mi fa questo, magari so sta qui, giorno dopo mi fa una cosa del genere, o insomma arriva e possiamo fare anche questo, boom, boom, mi fa un doppio minimo higher, quindi tecnicamente andrebbe quasi a fallire subito questa dinamica. Quindi l'idea è che siccome, vedendo anche un po' quelli che sono i ritracciamenti del mercato, anziché mettermi con uno stop su queste aree, 1,09, potrei mettermi con uno stop più ampio, quindi pensare anche a due ingressi, perché insomma stavo guardando un po' quelle che sono state le dinamiche di ritracciamento, se andiamo a vedere, lui qui aveva fatto un movimento di 260 pips e successivamente ha ritracciato di 125, ok? Qui ha ritracciato di 80, potrebbe tranquillamente venire, anche ecco, che poi confluisce con questa zona, venire insomma a fare una falsa in zona 10885. A quel punto dovesse fare qualcosa del genere, quindi lo vado un po' a tracciare, quindi supponiamo che lui da qui neanche scenda, ma continua a salire, a salire, dovesse fare qualcosa qui, effettivamente sarebbe magari una situazione confermativa che potrei andare poi a lavorare, chiaramente con una gestione qui di magari mettermi a via una volta arrivato di nuovo su questi minimi e poi andare a fare un trade un po' più ampio fino a area 1,0550 o comunque 1,06. Quindi l'euro da questo punto di vista lo sto seguendo proprio per questo motivo, perché è un mercato che seguo con molta più attenzione. Chiaramente insieme anche agli altri mercati, ad esempio la sterlina, che dopo aver fatto la rottura di 1,2630, sembra voler rientrare, però qui ancora siamo sempre in una zona un po' particolare, perché è l'area 1,2630 che lui ha appena rotto, qui potrebbe avvenire effettivamente un trigger, o comunque diciamo un ulteriore di basso. Adesso lui sta rientrando, sta provando a rientrare, vediamo un po' perché potrei aspettarmi di vedere anche qualcosa del genere nella giornata di oggi o domani. Dovesse avvenire anche qui, insomma, questo è un mercato da valutare, chiaramente anche qui da gestire su queste zone, questi minimi, e poi magari provare a fare un movimento più ampio, guardando un po' quella che è la situazione settimanale. Bene, questi erano gli aggiornamenti sul mio diario, le mie operazioni, la mia operazione long sul DAX, l'idea di trading su euro e forse sterlina. Abbiamo visto anche il dollaro yen, sul quale avevo un buy limit che non è stato preso, quindi anche qui rimango un po' in osservazione, la volatilità adesso si è un po' ristretta negli ultimi due giorni, però, insomma, sicuramente ha una view in questo momento molto più a favore di dollaro americano. Io ti ringrazio come al solito per aver visto questo video, ti ricordo di lasciare un commento, farmi sapere cosa stai facendo, qual è al momento il tuo posizionamento sul mercato, e se ti è piaciuto il video ti ricordo di lasciare un like. Ti saluto e ti ringrazio e soprattutto ti auguro buon trading. Grazie, ciao.